Noi sottolineiamo sempre l'importanza della prevenzione con campagne che la società italiana di dermatologia fa sul territorio quindi sulle varie regioni sui sui vari territori è importante la diagnosi precoce perché con la diagnosi precoce si può anche salvare una vita umana è sufficiente una visita dermatologica. La visita dermatologica è una visita apparentemente banale ma che può nascondere delle insidie quindi è importante farla soprattutto soggetti a rischio soggetti che hanno una storia familiare per tumori della pelle. L'utilizzo dello strumento e oggi ci sono degli strumenti molto innovativi che sono i dermatoscopi quindi l'epiluminescenza la diagnosi anche voglio dire visiva del tipo di lesione ci consente di fare una diagnosi precoce anche in quel caso. Quindi innovazione non solo farmacologica per il trattamento dei tumori della pelle ma anche innovazione tecnologica per la prevenzione. Chiaro che il rischio dei tumori della pelle in età pediatrica è più basso ma comunque i controlli dermatologici si possono fare si devono fare anche in età pediatrica. Grazie a tutti.